Questo è il San Luigi, è il crue che si beve prima, dopo un po' di tempo che è imbottigliato si può bere. All'incontraio del bricoliero che bisognerebbe aspettare un anno per l'ottimo. Vi ringrazio della vostra visita e vi aspetto più numerosi che venite a assaggiare il nostro vino. Siamo sempre disponibili e vi aspettiamo. Grazie.